Quest'opera di Norman Rockwell si chiama Triplo Autolitrato, l'ha creata nel 1960. E' praticamente ritrae un artista che dal vivo sta dipingendo, sta dipingendo se stesso sulla tavola e poi dopo lui stesso si guarda attraverso lo specchio. E' un'opera pazzesca, perché quando l'ho vista la prima volta da bambino ho cominciato a percepire proprio l'aspetto ludico dell'arte, il fatto che divertendosi sia possibile raccontare storie e costruire un rapporto empatico con... Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Quarantena!